Iniziate in questo istante la gara con il primo pallone giocato dalla formazione in maglia nera. Calindro, Calindro, salta un avversario e allarga per la conclusione. La conclusione colpisce in pieno il palo e la palla esce dall'altra parte. La conclusione, ancora sull'esterno della rete. Palla messa in mezzo, si mette il piede Mosca. Vigliella, Vigliella, la conclusione di Martino. Vediamo la battuta, entriano sulla palla e alla fine è Marano che va al tiro. Reverso, c'è la porta vuota e poi c'è questa conclusione che finisce alta. Alto il tiro di Vigliella, spreca questa opportunità. C'è questa conclusione al volo, tentata da Simari. Allarga ora per Muraka che si accentra. Versario 3 contro 2, schirripa, Vigliella, Vigliella, perso l'attimo la conclusione. A destra la conclusione sull'esterno della rete. Bilancio lungo, toccato di testa da Orlando. L'arbitro chiude qua il primo tempo sul punteggio di 0 a 0. Bianca e Bordigialli. Nella formazione della metina ha recuperato la palla, schirripa, Vigliella. No, poteva tirare in porta, porta vuota. Montesanti, palla per Vigliella. La conclusione è spinta da Mosca. C'è il calcio d'angolo di Dino. Nell'angolo schirripa, al centro la palla era per Montesanti. L'anticipo di Montesanti, Dino. E questa volta c'è la rete di Dino. No, no, minuto di Dino. Dino in porta. C'è sulla linea di porta. E ancora una traversa colpita da Dino. Gentile, palla all'angolo, no. Non ha bloccato il pallone e sulla sua respinta. A porta vuota praticamente. Direttamente in porta Martino, in uscita. C'è porta vuota. E il tiro di Schirripa colpisce Simari. Montesanti è messo in mezzo l'avversario. Calindro è messo in mezzo. Ora la conclusione di Calindro. La re è spinta. L'arbitro non è intervenuto. Per quel fallo sul Montesanti. Scigliano fermato. Mosca sulla palla. E cercate alla porta. Ora ancora recuperato Schirripa di Dino. No, sbaglia il passaggio per Muraka dall'altra parte. Conclusione. Verso, verso. Salta l'avversario. La conclusione. Verso. Lancio per Mosca davanti alla porta e realizza. Realizza Mosca. La parata di Mosca. Il colpo di testa. No, la palla è fuori. Salta di Montesanti. Calindro, Calindro. Salta l'avversario. Metto in mezzo. Vai a chiusura ancora di Mosca. La palla era per Muraka. E c'è il gollo. Il terzo gollo. Di Simari. Villella. La conclusione sull'esterno della rete. La gara. Montesanti all'angolo. Il pallonetto e la rete di Villella. Ma la gara finisce qua. Sul 3 a 2 per la formazione ospite.